Stanno pagando molto bene al servizio e nella fase di contrattacco, stanno pagando forse un pochino in ricezione ma il match a fare fin qui... ...in questo secondo time out tecnico, 16.11 il ponteggio, continua la, ancora omorui al servizio. Grazie a tutti. ...tiene in piedi l'azione, l'Italia risponde con la ricezione dell'Austria. Contrattacco completamente errato di Stelino Wink, tocca ora a Claudia Consoli. Attacca da posto 4, palla che si insacca nella rete, vale il vantaggio per le azzurre che si portano ora sul 4-3. Grazie a tutti.